Buonasera da Marco Capulli e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca. Ristorante devastato dall'escandescenza di un 32enne di origine marocchino. È successo ieri sera tra le 20 e le 21 circa. Scene di panico tra gli altri clienti e i bambini disperati. Mentre l'uomo devastava ogni cosa all'interno del locale, con lancio di bottiglie, piatti, sedi e tavoli, le forze dell'ordine sono intervenute. Con molte difficoltà sono riuscite a bloccare l'uomo. Greta Settirelli. Ancora ce la bestemmiare da solo, bestemmiava da solo. E quei signori che erano accanto gli hanno detto scusi, ma che sistema è? È uscito fuori e ho detto, ascolta, non bestemmare, non fare sto casino, perché se no mi tocchiamo alla polizia, non l'avessi mai detto. Siamo al ristorante Passaparola in pieno centro ad Arezzo, Viale, Michelangelo e domenica sera. Il locale è pieno di clienti, famiglie, con bambini al seguito. All'improvviso un 32enne di origini marocchine fa il finimondo. Prima le bestemmi e poi le offese alla cameriera e infine le minacce al titolare. Come ho detto polizia, carabinieri o polizia o carabinieri, ma hanno cominciato a fuggire da là a qua. Io sono arrivato qui a pelo perché questo mi voleva ammazzare, era una furia, era una furia. E io da dentro qua con la porta lo lasciavo fuori, dopo si sono alzati anche tre o quattro clienti, chiaramente venendo mia difesa. Riescono a farlo uscire, ma lui non demorde, rientra e spacca tutte le bottiglie di vino in quattro, lo bloccano di nuovo e lo fanno uscire. Si chiudono a questo punto dentro in attesa delle forze dell'ordine. E' entrato dentro con una furia, io non ho mai visto una persona con una furia in questo modo, ma veramente in vita mia. Sono dieci anni, più vent'anni ho fatto l'operaio, quindi sono trent'anni che faccio questo lavoro. E' entrato dentro, qui c'erano tutte le bottiglie, hanno iniziato a spaccare, a tirare giù tutte le bottiglie, tra l'altro penso 30 bottiglie più una di tre litri, quindi qui c'era tutto, si scivolava, bambini che piangevano, le donne che piangevano. Non si riusciva a fermarlo, tutti i tavoli, tutti i bicchieri, prendeva di qua, di là, insomma, una cosa mai vista, una furia mai vista. Sul posto arriva la polizia che, non senza difficoltà, lo ferma e lo porta nell'ambulanza della Croce Bianca, anche uno dei poliziotti, è rimasto ferito. E voleva entrare, aveva preso lo sgabello, voleva spaccare la porta, apriva a calci la porta, voleva spaccare tutto, entrare per forza dentro a spaccare tutto. Mi ha minacciato, io ti ammazzo, io tanto ti riprendo, io di qua, io di là, di tutto. L'arresto è stato convalidato e l'uomo ha ricevuto un divieto di dimora nel comune di Arezzo. Non si sente sicuro? Mica tanto, mica tanto, no. Non sa chi ti entra, non sa chi, come è, se esci, se non esci, insomma. Poi questa zona è diventata un po', ti rompe anche le scatole a un certo punto. E da domani scatta l'allerta arancione in buona parte della Toscana occidentale e le aree del sud, a partire dalla mezzanotte. Nel resto del territorio, già dalle ore 16 di oggi, è scattata l'allerta gialla. Quindi da questo momento fino alla sera di domani ci saranno piogge diffuse più abbondate sulle aree occidentali dove potranno risultare localmente persistenti le precipitazioni e potranno assumere carattere di rovescio e locale temporale. I fenomeni si attenueranno dalla serata di domani. Arriverà anche la neve sul appennino tosco-emiliano, sopra la quota di 1200 metri. I rustici vincono il Carnevale di Foiano nell'ultima uscita mascherata nel centro storico della cittadina della Val di Chiana. Chiara Salotti. I rustici fanno cappotto e chiudono il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d'Italia, vincendo con il carro e anche con la mascherata. Il verdetto della giuria, sigillato in cassaforte già dalla prima domenica di sfilate, è stato annunciato in una piazza gremitissima dopo la tradizionale scena del funerale di Reggio Condo, impersonato da un fantoccio gigante portato in piazza e bruciato. È la ventisettesima vittoria che arricchisce l'elenco nell'albodoro del cantiere che quest'anno ha conquistato i giurati con terapia d'urto. Al centro la figura di Amleto, allegoria degli intellettuali che si perdono in dissertazioni mentre il mondo versa in condizioni disastrose. Secondo classificato il cantiere degli azzurri, a pari merito poi in ottamboli e bombolo. Si archivia così la 485esima edizione del Carnevale di Foiano, considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie che per la tradizione storiografica. Il cuore dell'organizzazione ruota attorno ai quattro massodontici carri allegorici realizzati da altrettanti cantieri. Quella di quest'anno infine è stata un'edizione da record con oltre 15.000 tagliandi staccati. Arezzo si appresta a vivere uno straordinario anno di eventi. Il Ministero ha accolto e dato parere positivo alla richiesta di prestito avanzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo della Chimera, simbolo fortemente rappresentativo e identitario della città e testimone preziosissimo delle antiche doti artigianali nel modellare il metallo che ancora oggi distinguono il nostro operare. Il bronzo etrusco tornerà in città in occasione della mostra che verrà allestita nella gareria d'arte contemporanea in Piazza San Francesco per celebrare i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Così il sindaco d'Arezzo in una nota diffusa oggi pomeriggio che esprime soddisfazione per l'esito positivo della richiesta che farà tornare temporaneamente la Chimera a casa sua grazie soprattutto alla disponibilità del direttore dei musei della Toscana, Cascio. Il mito di Roma al Science Lab con Aldo Cazzullo in servizio. Noi abitiamo città fondate o rifondate o battezzate dai romani, percorriamo strade tracciate dai romani, parliamo una lingua che deriva da quella degli antichi romani. Roma ha ispirato tutte le arti, l'architettura, la pittura, il cinema, i fumetti. Repubblica si dice così in tutto il mondo come senato, come popolo, come libertà, come giustizia. Attraverso un racconto pieno di dettagli e curiosità, Aldo Cazzullo ricostruisce il mito di Roma partendo dai personaggi e dalle storie ed arrivando alle idee e ai segni. All'auditorium Carum Old di Arezzo, il giornalista, ospite di Arezzo Science Lab, ha raccontato il suo libro Quando eravamo padroni del mondo. I romani fronteggiavano le stesse questioni che abbiamo di fronte noi adesso, l'immigrazione, la guerra permanente. L'impero romano può essere ancora fonte di ispirazione. E se oggi noi preghiamo Gesù, se il Papa è a Roma e se l'Occidente è cristiano, è perché Roma diventò cristiana, nel modo che Piero della Francesca ha frescato qui ad Arezzo. Il giornalista ha poi dichiarato il suo amore per la città di Arezzo. Mi fa molto piacere tornare ad Arezzo, anche perché qua ho girato una parte di una giornata particolare, quella su Costantino, perché penso che gli affreschi di Piero della Francesca, nella chiesa di San Francesco di Arezzo, siano una delle cose più belle che ho visto in tutta la mia vita e in tutto il mondo. Quindi è stata l'occasione per rivedere e far vedere agli spettatori italiani quelli che erano interessati, il sogno di Costantino, la leggenda della vera croce, ma anche il croce fisso, che è molto più antico. Insomma, Arezzo è una città meravigliosa. Forse non è così conosciuta come meriterebbe. È una città turistica, ovviamente, ma potrebbe esserlo di più. Non so se gli arettini ne sarebbero felici, ma io di sicuro amo moltissimo Arezzo, come amo la Toscana, anche perché l'idea dell'Italia è nata qui, è nata tra Roma e Firenze, e Arezzo è sulla strada. Presentato oggi un ciclo di eventi per valorizzare e condividere testimonianze di spiritualità, vocazione e fede. Arezzo ospiterà la prima edizione del Festival dello Spirito, che tra il 2 marzo e il 23 marzo proporrà un intenso calentario di appuntamenti con ospiti di spessore nazionale ed internazionale. L'iniziativa è promossa da Serra Club Arezzo, diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, l'associazione culturale Almazen, con i patrocini del Comune di Arezzo e la Fondazione Beato Giunipero Serra. Il Festival coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni civili, religiose, militari, ma anche cittadini, studenti, associazioni, gruppi scout, istituti, con la finalità di dar vita a un momento di inclusione e partecipazione collettiva. Poi ci sarà la musica di Monsignor Marco Frisina, ci saranno le letture della parola di Dio, visite guidate ai capolavori della pittura, presenti in alcune chiese della città, tenute dalla dottoressa Liletta Fornasari e accompagnate dalle catechesi di Padre Francesco Bartolucci, mentre il Teatro Petrarca ospiterà la rappresentazione dell'opera Il mio Gesù del musicista e paroliere Beppe Dati, e poi dibattiti, mostre, proiezioni, forum, esperienze e testimonianze con la presenza tra i vari relatori anche di Vincenzo Morgante, giornalista e direttore di TV 2000, e Piero D'Amosso, giornalista, scrittore e caporedattore del Tg1 Rai. E per il ciclo La Scuola di Educazione Civica, Ivo Brocchi ha affrontato il tema della crisi demografica in Italia e nel mondo. Chiara Sadotti. Se ne parla perché è un tema stringente e a volte poco conosciuto. La problemografia è la valutazione del presente, ma soprattutto la valutazione del futuro. Cosa accadrà nel mondo, in Europa, in Italia, anche nella nostra città. La crisi demografica in Italia e nel mondo. La Scuola di Educazione Civica, nata da un'idea di Stefano Tenti, presidente dell'associazione Tra Tevere e Arno, ha toccato così un tema di stringente attualità. Ad affrontarlo il giornalista Ivo Brocchi con gli studenti del liceo artistico Piero Della Francesca. In Italia c'è questa famosa crisi demografica delle culle, nel senso che nascono pochi bambini rispetto a quella che dovrebbe essere un po' la costruzione regolare dei numeri della città e dell'Italia. E questo comporta cose importanti per quanto riguarda, ad esempio, l'organizzazione del futuro della società. La sanità, le scuole, l'urbanistica. Non è una materia che è solo per esperti che ne parlano a livello accademico, è una materia che riguarda tutti noi ed ogni giorno. Quindi questi sono i cittadini del futuro ed è bene che abbiano un contatto diretto con quelli che saranno i problemi più importanti della società. Proseguono così gli appuntamenti della Scuola di Formazione Civica Arezzo, una serie di incontri sull'educazione civica, tutto tondo, costretti collegamenti con il territorio. Io credo fermamente, con gran passione, che questi ragazzi, e lo stanno dimostrando con i fatti di questi giorni, partirà da loro la difesa dei valori della Costituzione, partirà da loro, va bene? È bene anche che abbiano un po' di notizie disparate che possono essere riportate anche agli articoli della Costituzione, ma che comunque sono praticamente il mondo che entra nella scuola, insieme alle altre discipline. No al patrocinio e contributo al Festival di Musica Trapper da parte del Comune di Arezzo, troppo volgare e sessista, che comunque si farà lo stesso ad Arezzo, fiere congressi, alla vigilia di Pasqua. Chiaro sabato. Dopo lo stop di qualche settimana fa dell'amministrazione comunale all'esibizione di Simba La Rue, adesso arriva il no perentorio al patrocinio per la Maratona di Musica Trapper. Si chiama Overload Festival, la non-stop che scatterà dalle 18 del venerdì santo fino alle 4 della domenica di Pasqua. Stessa la location, il padiglione di Arezzo Fiere, dedicato agli eventi privati di intrattenimento, ma il Comune ha negato patrocinio e contributo economico. La Maratona in questo caso comunque si farà, il padiglione è già stato prenotato e le date fissate. Tra gli ospiti annunciati ci sono Anna Pepe e Nick Savage. Proprio quest'ultimo nome avrebbe fatto storcere il naso all'amministrazione comunale per i testi volgari, sessisti e violenti e nei cui riguardi altri sindaci avevano già chiesto di annullare i concerti. Altro artista non gradito sarebbe Rondo De Sosa, 22 anni, tra per tre pinotti del panorama italiano che lo scorso 4 febbraio era stato denunciato a Milano dai carabinieri con le accuse di porto abusivo di arma e uso di alto falso. Non è una disparità, nel senso che noi abbiamo detto no ad entrambe. Nel primo caso, quello di Simba Larou, non c'era ancora un contratto firmato da Arezzo Fiere. Nel secondo caso, purtroppo, Arezzo Fiere ha firmato il contratto e quindi è evidente che ci sono degli aspetti che a questo punto deve essere Arezzo Fiere a definire. Noi abbiamo detto no come città perché sono messaggi che non accettiamo, sono messaggi, come ricordavi, violenti, misogeni, scurrili e non solo perché in questo pacchetto di otto, chiamiamoli sedicenti artisti, ve ne sono alcuni che hanno anche grossi problemi con la legge al momento per quello che sappiamo e per quello che ci è stato detto. Quindi noi possiamo dire e abbiamo detto di no perché rifiutiamo questo messaggio. Se poi gli organizzatori e Arezzo Fiere intende continuare su questa strada, noi non abbiamo la forza di impedire un evento che però a questo punto sta diventando sempre di più un evento privato perché la parte pubblica ha messo delle barriere. Ad una settimana dalla serie TV Rumors La Casa Brucia, scritta e prodotta da giovani under 30, si comincia a tracciare il primo bilancio sulle recensioni da parte del pubblico. Vediamo. C'erano questi tre tipi incappucciati che stavano pestando dai ragazzini, ma male. Non sembra roba da riposatatico. Magari qualcosa di etrusco. Etrusco. Parla di reti per il demonetopulcano. Il custode dell'antica. Ad una settimana dall'uscita su una delle piattaforme TV più importanti, la serie TV tutta made in Arezzo, Rumors, La Casa Brucia, incassa successo e recensioni positive, anche se con qualche critica dovuta indubbiamente alla natura low cost della produzione cinematografica. Assolutamente. Da quando è uscita stiamo proprio guardando dove stiamo apparendo, come sta andando soprattutto con le varie fasce di età, anche per renderci conto se piace di più magari ai teen oppure anche cosa ne pensano le persone fra 40 e 50 o anche 80, 70, insomma, tutte le fasce di età, sì. Un racconto inquietante e avvincente con i pregi e i difetti di una produzione appunto low budget, scrive cinematograph.it, uno dei siti più letti di cinema e serie TV. La notizia della pubblicazione della serie ha fatto il giro dei principali masmedia e sicuramente l'obiettivo anche dell'amministrazione comunale che l'ha sovvenzionata con 120.000 euro di far conoscere Arezzo è stato raggiunto. Ancora meglio, se a portare il nome della città in giro per il mondo sono dei giovani la cosiddetta generazione Z. Per noi è stato un riconoscimento veramente enorme ma soprattutto la dimostrazione che anche con mezzi veramente infimi, low budget, però con tanta volontà, tanta collaborazione e con un'idea chiara si può arrivare veramente a livelli alti. Comunque abbiamo tanto da dare, ci sono tanti ragazzi che si vogliono mettere alla prova anche se vengono da una provincia, vogliono comunque fare esperienza in questo campo e penso appunto di avere la voglia di avere una possibilità di poter dare una prova e di fare un prodotto che secondo me anche se è stato realizzato da under 30 anche con alcuni con tanta esperienza, alcuni con poca comunque è un buon prodotto. Facevano questi grandi riti agli equinozi e ai solstizi dove sacrificavano gli animali e poi leggevano la loro interiore. Sono come il fottuto vento! La pecca maggiore conclude l'articolo forse la recitazione ma gliela perdoniamo. Del resto sono stati loro stessi che ironizzando ai nostri microfoni si augurano anche solo un granello del successo che una famosissima pellicola ha avuto proprio ad Arezzo. Come successo anche che è stato girato un famosissimo film qui ad Arezzo che ora non vogliamo ovviamente paragonarci però mettiamo caso che anche l'1% del successo che ha avuto l'altro famosissimo film che è stato girato ad Arezzo a me andrebbe più che bene. La vita è bella. Ovviamente sì certo non volevo paragonare assolutamente i paragoni non si possono fare, ci mancherebbe. La Crow Band canta Shirley Crow alla Circo L'Aurora attraverso la voce di Ilaria Scatizzi. Sentiamo. È nato Crow Band perché la maggior parte dei brani che facevamo era di Sheryl Crow e questo è un brano di Sheryl Crow My favorite mistake Nata nel 2012 la Crew Band è una band musicale in cui genere vuole rendere omaggio ad una grandissima cantante pop rock Shirley Crow sul palco dal Circo L'Aurora di Arezzo una reunion del gruppo con la voce di Ilaria Scatizzi. Il gruppo è la Crow Band è un gruppo che è nato nel 2012 che poi si è sciolto però questo gruppo di amici hanno deciso oggi di riunirsi e di trovarsi qui al Circo L'Aurora che è un circolo molto intimo è una nostra festa di reunion appunto di questo gruppo. Sarà una country pop music facciamo pezzi di Sheryl Crow, Aretha Franklin, Rebecca Ferguson all'Annismo Reset e quindi spaziamo ma rimaniamo sempre in una country music. Concludiamo con una notizia di sport due nuovi titoli regionali per l'Alga Atleti Carezzo nel campionato italiano di salti a Firenze la società retina ha ottenuto due ori e un argento una doppia medaglia è arrivata nel triplo tra i cadetti con Filippo Misuri nel 2009 che si era laureato campione regionale con il salto di 12,48 e la sua coetanea Gemma Fabriciani che è salita al secondo gradino del podio con 10,55 metri nel santo e lungo della categoria ragazzi è invece sceso in pista Mattia Falciani che con una prestazione di 4,94 metri si è piazzata a terzo posto nella classifica generale risultanto il migliore dell'annata 2012 ottenendo quindi il titolo toscano riservato a questo anno di ascita positiva anche la prestazione di Stella Arniani del 2009 nella manifestazione nazionale Indoor Open nel salto con l'asta tra le cadette meritando il secondo posto con 2,60 metri due medaglie di livello nazionale sono state infine festeggiate da Fabrizia Malatesti allenatrice dell'Alga Atleti Carezzo che ha indossato i colori dell'assigiglio rosso Firenze ai campionati italiani individuali Indoor Master di Ancona conquistando l'oro per il titolo italiano nella staffetta 4x200 e poi l'argento nei 400 piani questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito a voi tutti buona serata con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti